Questa sera mi sono appena finito di leggere quest'altro bellissimo episodio del Diabolic R I fiori del male, con questo titolo che ricorda la famosa poesia di Baudelaire Fior du mar du Baudelaire Comunque è troppo bello quest'altra storia Pocket Ma veramente forse uno dei gialli più belli che ho letto di Diabolic E non è facile, anche su tutti belli Ma questo è proprio bello E disegnato molto bene tra l'altro Mi sono piaciuti tantissimo anche i disegni Ma soprattutto la storia Riesce ad essere un giallo dove Diabolic alla fine darà una spiegazione Proprio nei mini dettagli, proprio come al solito infallibile Ma troppo troppo bello Un altro bel giallo di Diabolic Dove questa volta finalmente non ci sono i soliti diamanti di mezzo Anche questo è un altro pregio Ma veramente un bel, un altro bellissimo Diabolic R Pocket Wow Wow